E' approdata alla Corte d'Appello di Messina la vicenda giudiziaria che vede contrapposti la Dasti, SRL e il Comune di Patti. In contraddittoria il pagamento delle fatture emesse dalla società per l'uso di 78 cassonetti di sua proprietà anche dopo la cessazione del servizio di igiene ambientale avvenuta il 14 giugno 2013. L'avvocato Fortunatina Giuffre ha rappresentato il Comune in primo grado davanti al Tribunale di Patti che ha rigettato le richieste della società. Il processo ora proseguirà la Corte d'Appello di Messina dopo che la Dasti ha già presentato appello. Da qui la Giunta ha autorizzato il sindaco Mauro Aquino a costituirsi nell'ulteriore grado di giudizio, sempre con l'avvocato Giuffre. Si discuterà invece al Tardi Catani, al 6 ottobre prossimo, l'udienza di merito riguardante la graduatoria delle case popolari e i criteri di attribuzione degli alloggi a Mazzarra Sant'Andrea. Così erano deciso con propria ordinanza i giudici della terza sezione. Il ricorso è stato proposto da un cittadino rappresentato dall'avvocato Massimo Lo Giudice che in graduatoria si era classificato al sesto posto. Da qui la contestazione della graduatoria definitiva e di tutti gli atti che hanno condotto alla sua approvazione. Il ricorrente ritiene che la Commissione alloggi edilizia residenziale popolare abbia sbagliato nel non riconoscergli i punti per lo stato di emergenza abitativa. Ora il Comune dovrà chiarire le ragioni per le quali si sia ritenuto di non attribuire all'interessato i punteggi richiesti ed altre circostanze riferite alla graduatoria.